Ben trovati! E' bello cominciare insieme in questo spazio in diretta di Padre Pio TV in tempo d'estate. Un tempo che sicuramente è di grazia per tutti noi, sia che viviamo vicino, sia che viviamo lontano a San Pio o anche a tante altre figure della nostra storia, di cristiani, di cattolici che vivono appunto la comunione dei santi. Anche oggi tra poco faremo un percorso molto originale, andremo nell'Alto Medioevo grazie al calendario liturgico. Prima però il percorso è molto più breve perché come sempre abbiamo il collegamento in diretta, oggi torniamo in San Pio, solo ieri è stata un'eccezione perché era San Giovanni e l'avete seguita, so, con molto interesse. Ed eccoci con Maria Antonia questa volta sotto gli archi splendidi della chiesa di San Pio. Ciao Maria Antonia, ben trovata! Grazie Maria Pia, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Torniamo, come giustamente hai sottolineato, in diretta da questo luogo, luogo di pellegrinaggio, il cuore del pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Ricordiamo appunto che nella chiesa inferiore qui a San Pio è custodita la reliquia del corpo di Padre Pio. Sono diversi i pellegrini che abbiamo intercettato dietro alle telecamere, non tutti, lo sappiamo, sono poi disposti a raccontarsi davanti alla telecamera, però possiamo dirvi che la provenienza geografica è davvero ampia in tutta Italia e non solo in tutta Italia. Poi c'era anche una signora che era stata qui l'ultima volta quando questa chiesa era ancora in costruzione, ci ritornava oggi dopo tanto tempo. Quindi in questo luogo davvero le storie che si incontrano sono tante. Noi siamo qui anche ovviamente come tutti i giorni per partecipare insieme alla celebrazione eucaristica delle 11.30 che sarà preseduta da Fra Pasquale Cianci e con la speranza ovviamente di riuscire a incrociare storie che disposte appunto persone, disposte a raccontare la loro storia anche davanti alla telecamera. Ma come anche tu ben sai non è sempre facile, però noi ce la stiamo mettendo tutta, quindi ti richiederemo la linea, poi non appena avremmo trovato qualche testimonianza da poter raccontare ai nostri telespettatori. Grazie dunque a Maria Antonia Di Maggio, grazie anche ad Anna Maria e grazie a tutti coloro che stanno lavorando dietro le quinte per agevolare questo nostro spazio. Un grazie anche a chi non si stupisce se io non faccio gli auguri ogni volta che incrociamo qualche nome. Ieri per esempio avrei potuto citare tanti anche frati di questa provincia religiosa, così come oggi e come non accennarvi a questo San Guglielmo Abate e sarete voi poi magari a notare, forse l'avevate dimenticato, che dovete ricordare con un pensiero augurale l'onomastico di qualche persona cara. Io lo faccio cumulativamente oggi per tutti e per sempre. Intanto appunto è San Guglielmo Abate. Piedi martoriati, purché piedi in cammino. Un'apertura, quella che anche attraverso il sito della Santa Sede troviamo in una biografia molto lunga e molto bella, di questa figura, di questo personaggio che è arrivato da Vercelli. Certo non ci stupiamo se un adolescente aveva compiuto delle scelte, perché allora in realtà i 14 anni erano praticamente per una donna di certo, perché le ragazze si sposavano, ma anche per gli uomini. Era un momento già di età quasi adulta. Un giorno voleva partire per i pellegrinaggi più classici dell'alto medioevo. Siamo negli ultimi decenni del primo secolo dopo il mille, quindi undicesimo secolo. Guglielmo a Vercelli era nato, ma in realtà non sapeva che più di cento anni dopo ci sarebbe stato un serafico padre, Francesco D'Assisi, che avrebbe fatto parlare il mondo per una scelta quasi identica, perché è stata la scelta radicale di lasciare tutti i suoi beni, tutte le sue sicurezze e appunto scendere per andare in pellegrinaggio. Si libera dunque degli orpelli di un casato che viene raccontato come rilevante, rinuncia anche al titolo, indossa un abito grezzo e parte pellegrino. Cinque anni di cammino innanzitutto verso Santiago de Compostela. Ovviamente pane e acqua, ovviamente notti all'addiaccio, ma anche e soprattutto, sapete, l'ultima è stata per esempio, proprio ieri sera in tv faccio un inciso, Rosi Bindi, a magnificare il pellegrinaggio verso Santiago de Compostela, perché è un modo per andare nella propria interiorità e lì trovare il colloquio con Dio rinnovato. Ma ritorniamo a San Guglielmo, che oggi la Chiesa ci ricorda nel calendario liturgico. Dunque, lungo la strada, ha poi raccontato, in questi cinque anni ci si poteva mettere un po' meno. Qualcuno si dirà, oggi c'è chi addirittura ha soltanto un mese di ferie, magari ci riesce a far rientrare un po' in bici, un po' a piedi questo pellegrinaggio. Ma Guglielmo se l'è presa comoda, anche perché voleva annunciare il Vangelo. Poi rientra in Italia con l'obiettivo di partire per Gerusalemme, ma invece non può farlo perché viene ferito da alcuni briganti e dunque capisce che è il momento di fermarsi, di non riprendere la sua missione di apostolo in cammino. Infatti riparte e poi, scavalcato anche quell'undicesimo secolo, agli inizi del dodicesimo lo troviamo in Irpinia, ai piedi del monte Parzenos, Partenio, e si ferma in una piccola grotta per diventare remita. Lui voleva fare l'eremita, ma ancora una volta l'esempio richiama, l'esempio diventa eco, anche senza Facebook, anche senza telefonini. Infatti viene raggiunto da tantissima gente e soprattutto da personaggi molto importanti. Infatti troviamo Ruggero II, un re normanno, che poi darà una mano proprio per creare Montevergine, questa abbazia meravigliosa che quindi è nata grazie alla scelta del monaco Guglielmo. 800 anni dopo la sua morte, nel 1942, Pio XII lo proclama patrono primario dell'Irpinia. E adesso invece, dopo il santo, andiamo a vedere nel calendario civile, anche se stiamo parlando ancora di fatti di grande rilevanza, non solo civile ma anche spirituale e religiosa. Infatti oggi, alle ore 19.30 a Taranto, nella cattedrale di San Cataldo, ci sarà la presentazione del libro intervista Consumare la suola delle scarpe, primo evento del 25esimo anniversario di ordinazione episcopale di Monsignor Filippo Santoro. La prefazione di questo libro, naturalmente è anche un consiglio di lettura, appunto, di questo Consumare la suola delle scarpe, che è in grande sintonia anche con San Guglielmo, di cui avevamo parlato fino a un attimo fa. La prefazione è di padre Antonio Spadaro. L'editore è San Paolo. Interverrà il direttore dell'Ufficio Nazionale della Conferenza Episcopale per i Problemi Sociali e il Lavoro, Don Bruno Bignami. Come sapete, è davvero un grande perno, non solo per la città di Taranto, Monsignor Santoro. Tra l'altro, con tante centinaia di persone, ogni anno viene a settembre, poco prima della festa di San Pio, per impetrare, appunto, una vita migliore per tutti coloro che hanno bisogno della sua assistenza e soprattutto di quella, appunto, del Padre Misericordioso. E noi adesso abbiamo anche la possibilità di ritornare a questa vocazione grazie al nostro archivio e grazie proprio a un'intervista di Maria Antonia Di Maggio. Vediamo. Ecco, ma già da piccolino, oltre a queste cose qui, anzi ancora un po' più piccolo, legato alla vocazione c'è il fatto che mia madre mi portava alla parrocchia matrice di Carbonara, Santa Maria del Fonte, e cinque anni, questo lo ricordo, mi faceva fare la preghiera alla Madonna del Rosario. E poi c'era il patrono di Carbonara, il primo, che è San Filippo Neri, che porta il suo nome, e dice, Filippo, di alla Madonna, fa questa di Ave Maria alla Madonna e poi a San Filippo Neri fai questa preghiera. San Filippo, fammi essere un santo sacerdote come sei tu. Io non capivo. San Filippo, fammi essere santo sacerdote. Beh, sacerdote sono diventato santo poi dopo. È stato ascoltato. Speriamo, ci stiamo lavorando. E poi anche in famiglia avevo due zii sacerdoti, ma poi nel cammino la vocazione è maturata, particolarmente negli anni del seminario. Io ho fatto il seminario a Molfetta, prima e poi a Roma, e negli anni dell'università, proprio negli anni del 68, sono andato di 67 a Roma, e il 68 tutto quel tumulto che c'è stato, un movimento studentesco, eccetera, eccetera, e lì ho avuto un incontro molto forte con un alunno di Monsignor Luigi Giussani, di Don Giussani. E lì è cominciato proprio l'incontro che mi ha illuminato, perché vedendo la passione di Don Giussani e poi mi ha fatto recuperare tutta la vocazione sin da piccolino, ma lì è stato il momento decisivo più bello. Ed è veramente meraviglioso scoprire che cosa significa rispondere alla chiamata. Noi ringraziamo i tanti ospiti che, come in questo spazio particolarmente pregiato, che ha curato la collega Maria Antonia Di Maggio, ringraziamo coloro che aprono il loro cuore e non raccontano semplicemente i ricordi. Ma naturalmente questo non toglie che sarà molto interessante andare a leggere il libro Intervista, scritto appunto con il collega Fabio Zavattaro da Monsignor Filippo Santoro. E c'è padre Antonio Spadaro, che come sapete è una delle figure chiave di tutta l'editoria del mondo cattolico, che ha scritto questa prefazione parlando anche di Brasile. E tra poco noi riparleremo di Brasile. Però oggi voglio fare anche un'accadde oggi un po' più indietro, perché c'è da esserne davvero orgogliosi. Personalmente sono anche stata qualche anno fa all'Università di Trento, in un'aula magna dove si discutevano le lauree e dove c'era una piccola targa con un nome curioso. Oggi vi faccio scoprire la storia della prima donna nella storia d'Europa a laurearsi. Elena Lucrezia Corner Piscopia. Devo andare sempre a guardare, non è facilissimo. Il 25 giugno del 1678 si laurea in filosofia a Padova. Parlare di Padova significa ovviamente parlare proprio della storia, della cultura europea. Era nata a Venezia 32 anni prima. Suo padre aveva favorito il suo desiderio di crescere nella conoscenza e le aveva dato diverse figure accanto per appunto acculturarsi. Un teologo, un latinista, un grecista. Studiò anche le lingue a partire dall'ebraico e l'arabo, lo spagnolo e il francese. E studiò anche musica. Elena era una ragazza molto religiosa, aveva coltivato la vocazione, era diventata oblata benedettina. La domanda per diventare anche dottore in teologia però venne rifiutata da una grande figura dell'epoca, il cardinale Gregorio Barbarigo. Quindi si deve accontentare la storia di una prima donna laureata in Europa nella filosofia, cioè in quella disciplina in cui si ama la sapienza. Elena Lucrezia Corner Piscopia è sepolta nella chiesa di Santa Giustina, in quel di Padova proprio. E adesso perché vi dicevo parliamo ancora di Brasile? Perché grazie al saluto, e noi ricambiamo naturalmente, di Gerson Kammer, credo, spero di aver pronunciato bene il suo nome, andiamo indietro, andiamo a un pellegrinaggio di due anni fa di una persona che vive appunto in questo grande stato del Sud America. Uno stato fondamentale anche per tanti altri aspetti, ma non mi posso certo dilungare, se non invece ricordandovi che potete voi stessi continuare a scrivere a infochiocciola.teleradiopadrepio.it inviando foto di vostri pellegrinaggi recenti, recentissimi, oppure vecchi, oppure magari quelli che farete e che vorrete documentare. Noi tra qualche istante ritorneremo, a proposito di documentazione, alle testimonianze di coloro che hanno conosciuto Padre Pio. E questa è una testimonianza molto adatta in tempi in cui il calcio è di nuovo in primo piano. Ma prima ci sono gli spot. E dunque vi accennavo al nostro archivio e ai testimoni che hanno conosciuto San Pio a volte anche in una maniera del tutto inaspettata. Continuiamo a ripercorrere l'intervista che il nostro direttore Stefano Campanella ha potuto fare a Sandro Mazzola, questo grande campione del calcio. Mentre Picchi con quale motivazione voleva incontrare Padre Pio? Picchi voleva incontrare Padre Pio perché lui aveva un fratello maggiore che era andato in guerra in Russia e non era più tornato e non si era mai trovato il corpo poi non si sapeva se era morto se era prigioniero ancora se era vivo dove fosse andato e lui voleva chiedere a Padre Pio se dall'alto potesse capire dov'era però poi non mi ha detto cosa ha detto Padre Pio, non l'ho mai saputo. Ma almeno dal suo volto dopo il colloquio con Padre Pio riuscì a capire se aveva avuto buone notizie oppure no? No, non aveva avuto buone notizie perché arrivò che era tutto stranunato tutto un po' arrabbiato diciamo con la storia della guerra eccetera eccetera. Torniamo alla sera prima Padre Pio fece questa battuta questi sono venuti qui perché vogliono vincere ma ci fu una profezia di Padre Pio circa la partita del giorno dopo con il Foggia? Non me lo ricordo questo non mi ricordo se disse qualcosa l'ha presa tutta sorridere effettivamente la cosa di questi calciatori che... Quello a cui ci stiamo riferendo è stato l'unico incontro con Padre Pio? Sì, l'unico incontro. Quell'incontro in che modo ha cambiato la sua vita ed è continuato in qualche modo il suo rapporto con Padre Pio? Ma lei dirò che io ho parlato spesso con lui dopo quell'incontro cioè quando ero in una situazione difficile o in famiglia un bambino ammalato oppure la squadra andava male io stavo andando male ho avuto un periodo che avevo dei problemi fisici non riuscivo più a rendere come prima e alla sera prima di andare a letto mi mettevo lì in ginocchio e parlavo, parlavo con Padre Pio. E ha mai avvertito anche in maniera indiretta la sua presenza? Ma quello che succedeva è che dopo mi sentivo più sereno più tranquillo questo sì, rispetto a quando avevo cominciato a parlare che ero nervoso, ero agitato Qual è il suo rapporto con la fede? Abbiamo capito che preesisteva anche prima dell'incontro con Padre Pio visto che fece questa sorta di voto al Signore poi è continuato questo rapporto con la fede? Sì, è sempre continuato cioè magari non sono tanto di andare tutte le volte alla messa eccetera eccetera però in ogni cosa che io devo fare faccio sempre un pensiero di dire ma sarà giusto da là mi guardano e soprattutto anche quando devo magari sgridare uno dei miei nipoti o dirgli qualcosa ci penso sempre un attimo guardo in alto e dico è giusto che lo faccio e poi dopo o lo faccio o non lo faccio a seconda di quello che penso che mi è stato detto Avete sentito quanta saggezza quanta semplicità e autenticità in questa testimonianza intanto è già pronta di nuovo in collegamento diretto dalla Chiesa San Pio Maria Antonia a te carissima Maria Pia grazie riprendiamo la linea voglio ricordare una serie di appuntamenti che ci saranno domani che saranno ovviamente tutti trasmessi in diretta dalla nostra tv perché domani sabato 26 giugno si apriranno ufficialmente la serie di iniziative legate al ventennale della canonizzazione di Padre Pio e sarà proprio il Cardinal Marcello Semeraro ad aprire questa serie di iniziative a presiedere la solenne celebrazione eucaristica delle ore 18 nel santuario di Santa Maria delle Grazie ovviamente trasmetteremo in diretta questa solenne celebrazione eucaristica alle ore 18 ve lo ricordiamo e a seguire subito dopo la Santa Messa quindi alle 19.30 circa sempre nel santuario di Santa Maria delle Grazie sarà presentato il libro diario spirituale di Monsignor Valentino Bailati ricordiamo che Monsignor Valentino Bailati all'epoca arcivescovo di Manfredonia a Vieste fu lui appunto a presiedere il tribunale ecclesiastico della causa di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio questa pubblicazione recentemente appunto edita dalle edizioni Padre Pio da Pietrelcina è stata curata da Monsignor Domenico D'Ambrosio arcivescovo emerito di Lecce e all'incontro ci saranno Padre Franco Moscone arcivescovo della diocesi di Manfredonia a Vieste San Giovanni Rotondo fra Maurizio Placentino il ministro provinciale dei frati minori cappuccini della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio Monsignor Domenico D'Ambrosio che ha curato la pubblicazione e il cardinal Marcello Semeraro che terrà la sua relazione sul tema per un controllo della mia anima sottotitolo del libro scelto proprio dallo stesso Monsignor Vailati modererà l'incontro il direttore di Padre Pio TV Stefano Campanella entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta come ricordavamo su Padre Pio TV ricordiamo il canale 145 del digitale terrestre il 445 TVSAT 852 Sky mentre la Santa Messa delle ore 18 sarà diffusa anche in mondo visione grazie ad un accordo di collaborazione con l'emittente dei frati cappuccini e il network cattolico americano EWTN la concelebrazione eucaristica che sarà appunto presieduta dal cardinal Marcello Semeraro sarà trasmessa in diretta streaming anche sulla pagina Facebook Convento Santuario Padre Pio e sul canale YouTube di Padre Pio TV mentre la presentazione del libro Diario Spirituale di Monsignor Valentino Vailati sarà trasmessa sulla pagina Facebook e sul canale YouTube sempre di Padre Pio TV quindi domani appunto una serie di appuntamenti che daranno inizio ufficialmente all'anno commemorativo della canonizzazione di Padre Pio che si concluderà il 16 giugno 2022 ricordiamo ovviamente che anche domani mattina noi torneremo in diretta come ogni sabato a collegarci direttamente proprio dal sagrato di San Pio questi sono gli appuntamenti di domani Maria Pia che ci premeva ricordare affinché appunto i nostri telespettatori possano seguire insieme a noi questa giornata particolare e infatti Maria Antonia molto bene hai fatto perché c'è bisogno ovviamente anche di anticipare gli eventi particolari che rendono ricco il nostro palinsesto io il 16 giugno scorso quindi nove giorni fa vi avevo mostrato appunto il libro in anteprima e domani ne sentiremo a lungo parlare penso che sia cara Maria Antonia forse anche il caldo ad aver scoraggiato qualche pellegrino perché proprio personalmente ho sentito ad esempio un gruppo di persone che sta in vacanza dal nord è sceso in Abruzzo al Parco Nazionale volevano venire a San Giovanni Rotondo ma le temperature troppo alte hanno fatto loro cambiare programma quindi proseguono in camper semplicemente stando in Abruzzo tu che ne pensi? anche se dobbiamo dire che oggi l'aria è decisamente più respirabile si sta più freschi è passato diciamo il caldo torrido però insomma l'estate è anche questo quindi noi siamo almeno io personalmente apro una parentesi personale sono sempre molto contenta quando ci sono queste temperature così calde d'estate anche perché poi a San Giovanni Rotondo lo sappiamo benissimo il clima è sempre fresco quindi insomma l'estate dura sempre troppo poco quindi insomma ben venga il caldo comunque per chi si sente magari scoraggiato da queste temperature possiamo dire che già oggi si sta molto più freschi e soprattutto non c'è un'umidità come in tanti altri luoghi italiani e adesso cara Maria Antonia noi aspettando naturalmente di ridarti la linea qualora tu voglia in qualunque momento vogliamo anche collaborare a far sì che stiamo meglio con d'estate è importante con un'alimentazione leggera infatti vi presentiamo la ricetta della minestra di zucca perché uno non ci crede ma nella Bibbia ci sono anche le ricette come c'è tutto perché la Bibbia è la storia di un popolo che cresce, che vive, che cammina che fa la guerra, che fa la pace gente che si sposa gente che si tradisce gente che mangia e allora ci sono anche le ricette e partiamo subito con il presentare il piatto di questa puntata che è la minestra con la zucca e torna ancora una volta alla zucca perché era anche un ingrediente della scorsa ricetta giusto Don Andrea? era un vegetale facile da trovare all'epoca dell'Antico Testamento in Israele a tal punto che la ricetta e il fatto particolare di quest'oggi nasce proprio perché la gente va fuori dal villaggio a cercare che cosa mangiare e trova delle zucche selvatiche con un problema che vedremo nel racconto ecco anticipiamo un po' che cosa ci racconta questo piatto perché ci riporta alla Bibbia la storia di quest'oggi e la ricetta di quest'oggi è una ricetta che ci fa riflettere sulla capacità del cibo di avvelenare o di nutrire perché può capire entrambe le cose e di che cosa serve un profeta che non è uno che prevede il futuro come una strana maga ma è uno che legge la storia con gli occhi di Dio e pone i gesti che pone Dio del veleno, del nutrimento e del gesto di Dio che salva il popolo questi sono gli ingredienti fondamentali di questa ricetta e veniamo al procedimento come sempre parliamo di sacre scritture parliamo di piatti vi raccontiamo anche cosa bisogna fare per cucinarli questi piatti quindi Don Andrea per preparare questa minestra di zucca che cosa bisogna fare? bisogna seguire quello che c'è scritto perché qui il procedimento è raccontato in maniera abbastanza significativa prendiamo la nostra zucca la puliamo la tagliamo a piccoli dadini la mettiamo a bollire o con un po' di brodo vegetale o anche semplicemente dell'acqua e quando inizia a disfarsi aggiungiamo il cumino che era uno dei profumi dell'epoca è uno dei profumi più interessanti della scrittura e sarà quello che darà anche il profumo grande alla nostra ricetta sarà anche un odore è una spezia che ritornerà quasi in tutte le ricette è un classico della gastronomia biblica quando la zucca inizia a disfarsi la possiamo passare frullare in modo da ottenere una crema ma ed ecco qui il tocco di Eliseo che cosa fa? Eliseo butta un pugno di farina è il modo con cui lui guarisce e sana questa minestra altrimenti velenosa non è niente di diverso da quello che nella cucina classica si chiama il roux cioè un po' di burro impastato nella farina e questo a cosa serve? serve ad addensarlo e a dargli un tono di dolcezza quindi mentre la zucca bolle noi impastiamo burro e farina fino a ottenere una pasta omogenea e quando ormai la crema è fatta la buttiamo nella crema questa si scioglierà e mescoliamo fino a ottenere questa crema delicata e vellutata serviamola calda con due crostini una grande zuppa per una sera d'autunno perfetto il cumino ho perso un passaggio si butta durante la cottura o dopo a fine cottura? la mettiamo durante la bollitura della zucca ok, perfetto mi sembra abbastanza semplice e veniamo a darvi gli ingredienti per poter realizzare questo piatto dunque la minestra di zucca si preparerà con 800 grammi di zucca gialla 300 millilitri di brodo 40 grammi di burro 2 cucchiai di farina sale mezzo cucchiaino di cumino e abbiamo sentito dunque in tanti del resto abbiamo nel congelatore proprio la zucca per utilizzarla in maniera anche estiva e fragrante io ho sempre di fronte a me e l'immagine di Maria Antonia non solo quando è andata appunto da don Andrea Ciucci per portarci poi tante ricette legate ai testi sacri legate anche ai santi ma soprattutto adesso nella chiesa di San Pio quindi quando volete vi do la linea perché non sei sola naturalmente intanto parliamo anche di luoghi meravigliosi eravamo prima immersi nel medioevo a proposito di San Guglielmo Abate e sapete che l'alto medioevo e anche poi subito dopo i secoli d'oro dell'età medievale hanno fatto scrivere un capolavoro come grandi peccatori grandi cattedrali altro libro forse da riprendere in mano ma purtroppo so che non è più in commercio comunque l'aveva scritto Cesare Marchi intanto però noi possiamo riassaporare anche i percorsi appunto dei pellegrini per vedere le grandi facciate delle cattedrali pugliesi con un approfondimento che dobbiamo a Leonardo Fania infatti con la guida Giuseppe Beccia ospite del programma Antiche Pietre scopriamo perché il rosone della cattedrale di Troia è uno dei più importanti del romanico pugliese veramente fa strabiliare guardando questa facciata è il rosone se guardiamo bene il rosone noteremo che abbiamo delle decorazioni dei trafori tra un raggio e l'altro che sono uno diverso dall'altro se guardiamo bene queste decorazioni e soprattutto le piccole decorazioni trilobate con queste tre foglioline sopra i raggi noteremo che hanno molto molto a che fare con le decorazioni delle finestre dei palazzi arabi i palazzi che troviamo in Andalusia in Spagna o che troviamo in Nord Africa o che troviamo perfino in Persia in India perché abbiamo queste assonanze con l'arte orientale e l'arte araba beh perché molto probabilmente questi trafori sono stati fatti da mano araba o sono stati fatti da maestranze locali fortemente influenzate dalla cultura araba che peraltro era molto presente nel sud Italia ricordiamoci che in quegli anni la Sicilia era era abitata per lo più da arabi quindi la cultura araba era molto presente quindi la cosa straordinaria di questo rosone è che abbiamo un rosone che diciamo è la tipica decorazione delle facciate delle cattedrali cristiane arricchito da decorazioni che sono tipicamente arabe arabeggianti e nel centro esatto del rosone c'è una stella di David quindi abbiamo gli elementi artistici e decorativi che appartengono alle tre grandi culture monoteiste della storia tutte e tre insieme è una cosa davvero straordinaria l'altra particolarità di questo rosone è che ha un numero dispare di raggi in genere per fare un rosone si incrociano dei diametri perciò il numero dei raggi è sempre pare se si incrociano due diametri i raggi sono quattro se si incrociano tre sono sei e così via invece qui ne abbiamo undici perché? beh probabilmente c'è un valore simbolico in questo numero undici potrebbero essere i dodici apostoli meno Giuda il traditore oppure potrebbero essere i dodici apostoli meno San Pietro perché San Pietro si troverebbe al centro della composizione con Gesù Cristo perché è con San Pietro che a Roma si fonderà il centro della cristianità e quindi San Pietro e Gesù Cristo al centro e gli apostoli sono coloro tra i quali irradiano la parola di Dio ai quattro angoli della terra ed è anche questo forse il motivo per cui le decorazioni tra i raggi sono una diversa dall'altra perché rappresenterebbero questa è la teoria i diversi popoli della terra attraversati dalla parola di Dio un'ultima cosa interessante di questa facciata è la selva straordinaria di personaggi di animali di mostri che arricchiscono questo sopracciglio sopra il rosone e questo insieme decorativo tutto intorno al rosone è un'ultima cosa